Siamo qui con Alberto Guaitoli, presidente AMBA di Modena e siamo qui per chiedergli un suo commento sulla riapertura del mercato dopo la zona rossa, dopo questo periodo di chiusura totale che è stato un periodo duro per tutti, un po' come lei vede la situazione, questa riapertura un po' lenta, però appunto una riapertura e come vede la situazione in questa prima giornata di mercato? No, intanto siamo contentissimi di essere tornati al nostro lavoro perché l'impegno è talmente così grosso di lavorare con la nostra clientela, avevamo bisogno di ritornare ad avere la nostra attività perché avevamo fatto degli acquisti, avevamo bisogno di vendere, però siamo contenti innanzitutto perché lavoriamo all'aperto, quindi stiamo lavorando in sicurezza, Abbiamo tutti i nostri dispositivi, quindi le chiusure laterali, lavoriamo con solo il fronte, tutti la mascherina, abbiamo le entrate tutte controllate da personale qualificato, provano la febbre per quindi venire al mercato vuol dire venire ad acquistare in sicurezza, questa è la parola d'ordine. Noi ci sentiamo tranquilli perché manteniamo tutte le distanze, cerchiamo di rispettare al massimo tutte le regole, ringraziamo il Comune di Carpi, in questo caso lavorando a Carpi che ha predisposto una serie di iniziative per poter lavorare in sicurezza, per quindi siamo contenti. Siamo contenti anche perché è partita, oggi c'è una partecipazione abbastanza di massa delle persone che sono venuti al mercato, stanno venendo a vedere la roba nuova, sono incuriositi e poi siamo contenti che ritornino ad abituarsi a tornare in centro, al centro storico, invece di andare sempre nei centri commerciali o di comprare online, vengono a vedere la roba di persona, la possono toccare, la possono controllare, insomma è un altro tipo di acquisto in cui vengono seguiti, vengono consigliati, c'è un altro tipo di servizio. Io e tanti anni che faccio il mestiere, tutti quelli che vengono a comprare nelle nostre bancarelle sono diventati tutti amici, quindi lavoriamo in un contesto di amicizia, per quindi anche il mercato in se stesso è un ambiente dove si fa anche del sociale, dove si parla di tutto, un punto d'incontro e 500 anni che si fa il mercato qui a Carpi in piazza, per quindi speriamo di continuarne per altrettanto, per tutto quello che posso dire, continuare a lavorare in sicurezza, che la gente sia contenti che ci siano venuti a trovare, che continuino sempre di più a mantenere questa tradizione di venire al mercato. Siamo qui con Paolo Panini, presidente di Forum 13 Mercati di Carpi e chiediamo a lui un commento su questa riapertura dopo questo periodo di chiusura totale e una sua riflessione al volo su questa nuova ripartenza. Sì, siamo tornati alla normalità in tutti i posti, sperando che questa cosa qua continui nella normalità e speriamo nelle cose positive tutto qui.